Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale, quest'oggi ci troviamo sempre su Destiny come potete vedere siamo in una sorta di tutorial, ma non vorrei neanche chiamarlo così perché non è un tutorial e diciamo che vi spiegherò dove trovare la vera, la palla da calcio, ecco non la vera perché c'è la palla però quella da gioco, quella lì che se toccate salta allora praticamente sono in tre posti diversi, il primo luogo si trova sotto queste scale vicino a queste casse che portano verso torre nord, quindi ecco questo punto lo sto inquadrando bene non è molto difficile anche perché i tre luoghi sono tutti praticamente vicini quindi il secondo luogo praticamente è ovviamente sempre sulla torre dobbiamo recarci sempre lì vicino a quelle casse dalla parte della torre nord ecco però ragazzi invece di essere vicino a quelle casse si trovano invece vicino a queste altre casse ecco sempre vicino alle scale che portano verso torre nord troviamo dietro o davanti come preferite dire voi quelle casse la palla da calcio invece come ultimo luogo dovete andare a questa sorta di magazzino io lo chiamo magazzino ma non è questo, non è un magazzino ecco vicino a questi per virgoletti operai che vi danno in grammi dall'altra parte c'è quello che vi dà in grammi e vicino a queste bobine e a quelle casse ecco quelle bombole gialle, quelle casse troverete la palla alcuni non sanno questa cosa ecco che c'era questo pallone quindi ragazzi spero che il video almeno vi sia piaciuto vi sia stato utile almeno potete divertirvi con la palla e quindi niente ragazzi il dagger è tutto noi ci vediamo in un prossimo video bella